Ciao, l'altra volta avevamo utilizzato lo Sculpt Mode in Grease Pencil per cambiare leggermente la forma di un disegno piatto e dargli tridimensionalità. C'è anche un altro uso per lo Sculpt Mode che è quando vogliamo creare un'animazione facendo solo delle piccole modifiche alla forma esistente, quindi non ridisegnare completamente qualcosa ma cambiarne la forma in un altro momento. Per esempio questa potrebbero essere delle foglie che si muovono al vento e quindi potrebbero avere questa forma ma magari in un secondo momento, quindi siamo a 24 fotogrammi al secondo, mi metto dopo un secondo, quindi al fotogramma 24 e posso voler dare un'altra forma alle foglie perché il vento le ha spostate e quindi per esempio utilizzo twist, ingrandisco e vedete sto cambiando la forma ed è apparso l'Onion Skinning, in questo caso mi dà un po' fastidio, lo tiro via, quindi faccio questo lavoro per cambiare la forma di queste foglie, sto usando in questo caso twist e poi posso usare gli altri push e grab per cambiare un po' la forma come se il vento le stesse modificando, lo posso fare ovviamente dall'inquadratura della telecamera ma anche dalle altre inquadrature. Adesso ho due forme prima e dopo, quindi in questo caso sono foglie, una, due, ammettiamo di voler fare un loop di movimento, torno in object mode per semplicità, prendo il primo fotogramma e lo duplico al fotogramma diciamo 48, vediamo 48, quindi adesso ho sposto in questo modo la forma, la nuova forma e torno a quella precedente. In mezzo potrei fare come abbiamo visto un'interpolazione, quindi posso andare anche in edit mode e abbiamo con ctrl maiuscolo E, posso interpolare, vado nelle opzioni perché mi interessa prima di tutto interpolare non solo il layer attivo che è quello in questo caso, vediamo quale sarebbe il layer attivo, quello delle linee, no, voglio farlo su tutti i layer in maniera tale da spostare tutti i layer e poi invece di farlo a ogni fotogramma facciamone uno ogni tre per dare un po' più l'idea di fotogramma diciamo disegnato a mano. Se lo faccio anche qui si ricorda le opzioni e adesso quindi ho le foglie che si muovono tra queste due diciamo posizioni, non ho fatto proprio una gran differenza però può dare un pochino l'idea di un movimento al vento o comunque insomma è una variazione che rende l'animazione un pochino più interessante. Invece di ridisegnare la foglia ogni volta ho utilizzato lo sculpt mode per variare la sua forma in un altro fotogramma e quindi ottenerne una seconda versione e poi ho usato l'interpolazione per le forme in mezzo. Immaginate quindi che può essere utile per nuvole che si spostano, per fiamme, per tutte le situazioni anche per un albero, per l'erba che si deforma, per tutte queste situazioni appunto nelle quali il nuovo fotogramma non è così tanto diverso dal precedente ma è una piccola variazione per fare dello squash and stretch. Comunque adesso vedrete che ne faremo anche altro con queste foglie. Ci rimane una piccola questione da risolvere che è quella del fatto che le foglie fanno questo movimento e poi smettono di farlo. Abbiamo a disposizione il modifier di tipo time offset con custom range. Posso indicare che i fotogrammi dall'1 al 48 con questo keep loop vanno ripetuti e quindi adesso quando arriva a 48 ricomincia e quindi ecco che ho delle foglie che si muovono. Può essere appunto erba, può essere foglie. Ho creato un loop e posso utilizzare queste foglie da altre parti. Questo è un altro uso della modellità sculpt per animare, quindi o come nella lezione precedente per modificare un disegno già fatto o per animarlo. Ovviamente non solo con grab twist ma anche queste funzioni di strength, thickness, smooth possono essere anche queste utilizzate in animazione. Grazie e alla prossima!